Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing. Il pacco che tengo tra le mani mi è stato inviato direttamente dalla Magic Press e contiene alcuni dei loro volumi che io prossimamente nel canale recensirò. Quindi questo video serve anche un po' come un assaggio per prepararvi a quello che vedrete prossimamente su questo canale. Cerchiamo di aprirlo senza distruggere tutto. Bene, il pacco è aperto e voilà, la meraviglia! La prima cosa che mi hanno inviato è Girlfriend numero 1, una serie che mi interessava veramente tanto e che sono veramente molto curioso di leggere. È uno Yuri completo in 5 volumi, questo è appunto il primo uscito qualche giorno fa in fumetteria. Poi un'altra serie veramente molto interessante è Yuri a Type 100, mi hanno inviato i primi 5 numeri usciti, la serie sarà completa in 12. Di Yuri qua sul canale ne avevo già parlato quando era ancora inedita e non vedo l'ora di leggerla in cartaceo, anche perché nella lettura mi ero fermato giusto al primo volume, quindi sono molto curioso anche di vedere come la storia evolverà. L'autore di Yuri è lo stesso di Oretama, le mie palle, che è anche quello uscito sempre per la Magic Press completo in 6 volumi. E il genere è sempre quello, questo ecce abbastanza spinto, un po' soft and die, comunque sia sempre molto comico. È veramente una bellissima serie, sono veramente contento di averla. Avevo scordato di farvi vedere il numero 4. E all'interno di questo pacco ci sono anche due numeri 1 di due loro nuove serie, e sono l'amante dei sogni numero 1 e underground hotel numero 1. Sono entrambi yaoi, entrambi per un pubblico adulto. Non sono molto avvezzo al genere dello yaoi, praticamente non ne ho mai letti, però sono molto curioso di vedere perché riscuotano così tanto successo specialmente nelle ragazze, anche se più o meno me lo posso immaginare. Per cui per questo unboxing è tutto, ringrazio ancora la Magic Press per avermi inviato questi volumi, e noi ci vediamo prossimamente per le relative recensioni.